allora dopo aver fatto un annuncio su subito sono stato contattato da questo da questo personaggio africano vabbè è lì ho fatto il video però subito dopo mi ha contattato un altro questo qua italiano italiano in cui mi dice si trattiamo sul prezzo mi fa ok voglio comprarlo e la faccio la faccio curta mi dice ok che banca ai o questa questa qui a no questa non va bene poi mi dice ma ho anche questa questa va benissimo va benissimo e allora io mi aspetto di dare l'iban per fare il bonifico mi fanno no stiamo parlando di di mezz'ora fa ok quando c'è stata questa telefonata dunque le sei e mezza circa mi dice no no vai subito a questo indirizzo che in pratica è qua vicino che c'è una banca ma naturalmente la banca è chiusa ma c'è il bancomat ok anche mi fa vai subito lì vai subito lì e che io ti do ti faccio avere tramite il banco ma dei soldi in contanti e già li dico ma come fa a farmi avere i soldi contati però non dico nulla e vai subito che io gli dico no guarda avendo mangiato poi la foglia gli dicono guarda ospiti a casa non posso muovermi e andrò domani mattina a questo punto lui mi butta giù il telefono e dunque l'unica cosa che ragionando con questo è il fatto che lui volesse un bonifico però ma alla fine lui non voleva farmi un bonifico voleva l'opposto che io tramite il mio banco ma adesso non so la carta di credito facessi a lui il bonifico e dunque sono a questo numero di telefono io ho solo il numero di telefono non ho nessuna cosa scritta dunque non posso dare il numero di telefono lui diceva che era di ravenna ma chissà non se neanche nessuno se nemmeno presentato comunque diciamo do i primi sei numeri comunque 351099 dopo gli altri non posso darli perché oggettivamente non ho nessuna prova nel senso è la mia parola potrebbe essere dunque oggettivamente anche furbo per dire questo però rimango anche basito dal dal fatto di questo qua cioè cioè pensi che io vada a farti un bonifico cioè o pensa che la gente sia stupida cioè nel senso è logico che io non ti vado a fare un bonifico per te cioè nel senso al massimo per per me ok nel senso se ti vendo un oggetto ok comunque ecco questo fate attenti che c'è c'è in giro anche gente di questo tipo cioè per aver fatto nel giro di fatto ieri sera ieri notte un corso subito già due che abbiamo telefonato tutte e due fasuli tutte e due truffatori e niente state attenti state attenti perché oggettivamente qua perdere i soldi ci si mette un attimo dunque comunque questa aggiungeva non ho mai sentito nel senso che chi vende cosa deve fare un bonifico al compratore spero di essere stato utile state attenti e state attenti soprattutto sul senso quando vi mettono fretta dite si aspetta un attimo che lo faccio domani per prendere tempo nel senso anche per ragionare sulla cosa state attenti cioè nel senso che veramente ci sono ci sono in giro dei lupi arrivederci alla prossima